Il progettino è avvertito di Roma 2, guadagnare agli assistenti, spazi di Roma 1, parenti di Ciappino. Ci dovete nazionare, Sant'Anzini, Salatino, Lancetti, Gacchioni, Banzini, Antani, Pucci, Gartentieri, Ciochini, Banzini, Scalatini. No, no, no. e poi prende me ne sono gioca tutte ieri dieci dai bravo cecco è sparato bravo bravo ci stava giù ma stava lì il barretto ah adesso tira rimbalziamo male si siamo giù appoggia go nooooo i ampatè San Pedro davanti alla porta che scagno se lo fare il gioco se lo fare il gioco se lo fare il gioco che lo fare il gioco adesso lo fare il gioco davanti alla porta davanti alla porta Grazie a tutti Grazie a tutti